Ancora una volta il Movimento 5 Stelle costituisce un'eccezione, abbiamo votato no all'invio di ulteriori forniture militari per l'Ucraina, ancora qualche mese fa il Presidente Meloni scommetteva sulla vittoria sulla Russia, una scommessa che noi non abbiamo mai fatto, perché riteniamo che a secondare queste scalecio militare allontani una via d'uscita. L'unica via d'uscita è il negoziato, trattative per la pace, concentrare lì tutti i nostri sforzi politici e diplomatici, invece il risultato è un governo che continua a secondare le indicazioni delle istruzioni di Washington a piegarsi passivamente a questa logica bellicista di un'escalation militare, che non sta portando assolutamente frutti, se non ulteriori morti e distruzioni. Peraltro oggi è stato respinto anche una nostra proposta di tassare gli extra profitti delle industrie belliche, in un momento del genere dove le industrie belliche ormai sono un paio d'anni che stanno lucrando ingenti vantaggi e profitti, almeno il governo potrebbe avere la decenza, visto che sposa questa linea, di poter operare una redistribuzione con questa tassazione a favore di famiglie e imprese in difficoltà, in difficoltà per il caro vita, per il caro muto, il caro benzina, il caro tutto, e invece nulla, nulla per l'emergenza degli italiani ma continuare a secondare istruzioni che ci vengono impartite dall'estero.